Buongiorno ragazzi, spero che vada tutto bene, che siate ancora carichi. Cominciano a esserci le prime misure di allentamento della quarantena e c'è anche una bella primavera fuori, ma vi auguro che abbiate davvero anche la forza, la voglia di andare avanti con lo studio, perché siamo agli ultimi battute ed è importante rimanere concentrati, perché ci sono altre cose importanti da fare. A partire da storia, finora abbiamo visto un'epoca, quella del basso Medioevo, dal mille in poi, caratterizzata da tante situazioni positive. Ve l'ho detto tante volte che il Medioevo di questi secoli non è il Medioevo che potremmo immaginare noi quando guardiamo qualche film, ma è un Medioevo con tanta ricchezza, con tanti colori, molto più simile alle società in cui viviamo noi oggi. In realtà però, a un certo punto, questi secoli di continuo progresso, di continuo sviluppo, si interrompono. Il XIV secolo, in modo particolare, il 1300, è un secolo di crisi, tanto che gli storici in generale parlano di crisi del 300. C'è una crisi economica dovuta al fatto che la popolazione era cresciuta troppo e non c'era più cibo per tutti, quindi iniziano ad esserci a un certo punto delle carestie, la gente comincia a far fatica a trovare il cibo. Ci sono delle guerre, alcune anche molto lunghe, una addirittura, lo vedremo oggi, viene chiamata la guerra dei cent'anni, perché fra varie interruzioni durerà proprio cent'anni. Epidemie come la peste, che arriva nel 1348 e poi ogni tanto tornerà ad uscire. Quindi un momento di crisi, che non a caso il vostro libro intitola Autunno del Medioevo. Ma andiamo a vedere in cosa consiste questo Autunno del Medioevo. A partire dall'Impero. Già abbiamo detto che la fase di massimo splendore dell'Impero era finita e stavamo andando verso una decadenza. Ecco, questa decadenza arriva ora al suo culmine. Rigo VII è l'ultimo imperatore all'inizio del Trecento che prova a venire in Italia e a riportare sotto il suo controllo le città italiane. È un tentativo molto desiderato, molto richiesto dai Ghibellini e anche per esempio da Dante Alighieri. Ma è un tentativo anche molto sfortunato. Rigo non riuscirà ad ottenere ciò che voleva, morirà in Italia senza essere riuscito a sconfiggere i comuni. E questo è di fatto l'ultimo tentativo. Da questo momento in poi gli imperatori si disinteresseranno completamente dei territori italiani, se la prenderanno persa, diciamo così, e il loro governo, il loro comando sarà soprattutto sui territori della Germania. E non solo. Addirittura anche la stessa carica di imperatore diventerà una carica non così forte e distante come in passato. Infatti a metà del 1300 Carlo IV, imperatore, emanerà una bolla, una bolla d'oro con la quale si riformano le modalità di elezione dell'imperatore. Da questo momento in poi l'imperatore non è necessariamente il figlio di un imperatore precedente, ma per fare l'imperatore ci sono delle piccole elezioni a cui partecipano sette grandi elettori tedeschi. Tre sono ecclesiastici, sono vescovi, quattro sono principi e quindi questi sette hanno il compito di eleggere l'imperatore. E il papa in tutto questo non c'entra nulla, non è più necessaria l'incoronazione da parte del papa. Cosa vuol dire questa bolla d'oro? Non è semplicemente una questione di diversa procedura, ma indica due cose. Prima cosa, l'impero ormai è una cosa che riguarda la Germania. L'Italia, il papa, altri territori non c'entrano nulla. A eleggere l'imperatore sono gli elettori tedeschi, i sette grandi elettori tedeschi, perché l'imperatore riguarda la Germania. Seconda caratteristica, se l'imperatore ha delle persone che lo eleggono, evidentemente poi dovrà rendere conto a queste persone che lo hanno eletto. In pratica non è più un sovrano assoluto, molto più forte, molto più potente di tutti gli altri, ma perderà una parte del suo potere e semplicemente era un principe, esattamente come gli altri, che aveva un po' più di potere rispetto agli altri. Ma non con tutta questa differenza. Potremmo definirlo un primus inter pares. Cosa vuol dire? Un primo tra pari. Cioè è il primo, ma in un gruppo di persone tutto uguali. Non è più un sovrano molto più forte e molto più potente di tutti gli altri. Quindi, se notate, in Germania accade qualcosa di esattamente opposto rispetto a quello che stava accadendo in Francia, per esempio. Non se la passa meglio nemmeno l'altro grande potere che la volta scorsa abbiamo visto con Bonifazio VIII aveva provato ad arrivare al massimo, era riuscito ad arrivare al massimo della sua potenza terrena, vale a dire la Chiesa. Dopo la morte di Bonifazio VIII, dopo un conclave piuttosto lungo, viene eletto papa Clemente V. Clemente V è un cardinale francese che, con la scusa di fuggire dalle pressioni, dalle minacce, dalle intromissioni delle famiglie di Roma, decide di trasferire la corte papale ad Avignone. Avignone era un territorio, un feudo, un piccolo feudo che si trovava in Francia, ma che apparteneva al papa. Quindi, in teoria, rimaneva a casa sua, rimaneva in una zona di proprietà del papa. In pratica, però, trovandosi a Avignone in Francia, questo trasferimento significava un porsi sotto la protezione del re francese. Più che una protezione, però, potremmo definirla una prigionia. Infatti, questo periodo, che durerà diversi decenni in Francia, viene chiamata cattività avignolese. Cattività, dal latino captivitas, significa prigionia. In latino, il cattivo era il prigioniero. Quindi, con questo termine, ci ha indicato proprio il fatto che questi papi, in realtà, dipendevano completamente dal re di Francia, che li teneva sotto controllo e decideva cosa dovevano fare. Anche perché dopo Clemente V, come vi dicevo, arriveranno altri papi, quasi tutti francesi, e il papato, la sede del papato, rimarrà lì per molto tempo. Intanto, a Roma, abbiamo un'avventura molto particolare. Un popolano, Cola di Rienzo, riesce a prendere il potere in una situazione di grande decadenza a Roma, con scontri tra le famiglie più potenti, dopo che il papa se n'era andato. E, grazie alle sue capacità comunicative e grazie alla sua demagogia, riesce a prendere il potere. Che cos'è la demagogia? Demagogia è una parola importante, perché è una parola che viene utilizzata tante volte anche oggi. Il demagogo era un personaggio dell'antica Grecia, era un insulto che si utilizzava nell'antica Grecia. Ed era colui che, con belle parole, con false promesse, riusciva a convincere il popolo, nella democrazia atteniese, a votarlo. Ma in realtà tutte queste sue parole, tutte queste sue promesse erano vane, erano tutte bugie. Il demagogo da lì è una parola che ha iniziato a indicare colui che dice alla gente ciò che la gente vuole sentirsi dire, fa delle grandi promesse che in realtà lui sa benissimo di non poter mantenere, e in questo modo ottiene grande potere e grande vantaggio. Purtroppo vi dicevo un termine molto attuale, perché la politica italiana e anche europea e mondiale in quest'ultimo periodo ha avuto un grande incremento di personaggi che potremmo davvero definire demagoghi, o con un termine un po' diverso, anche se più o meno indica la stessa cosa, populisti. Cioè personaggi che raccontano al popolo ciò che il popolo vuole sentirsi dire senza nessuna razionalità, senza nessuna buona intenzione, ma con l'unico scopo di ottenere il potere e l'appoggio della gente, che lasciandosi convincere si rinuncia anche alla propria libertà. Questo colla di Rienzo quindi diventa capo, prende il controllo di Roma, ma come spesso succede ai demagoghi, a un certo punto perde anche il contatto con la realtà. Inizia addirittura a pensare di voler ricostruire l'impero romano, inizia a credersi molto forte, molto potente, ha un atteggiamento anche violento e autoritario, e la conclusione è una conclusione per lui molto negativa. I nobili romani organizzano una rivolta del popolo, e colla di Rienzo viene ucciso, il suo corpo bruciato e le sue ceneri gettate nel tevere, per darvi l'idea come alla fine questo personaggio era amato. Ne ho voluto parlare però, così come ne parla il vostro libro, proprio anche per le sue implicazioni contemporanee rispetto al tema della demagogia. Ma la Chiesa, diciamo, non ha ancora toccato il fondo, il popato non ha ancora toccato il fondo. Abbiamo un personaggio in questo periodo molto importante, Santa Caterina da Siena. Santa Caterina era una monaca proveniente da una famiglia povera, semi-analfabeta, che però iniziò ad avere delle visioni di Dio, e iniziò a scrivere lettere ai potenti della terra, in cui li richiamava, in cui li sgridava per i loro errori, per i loro sbagli, e in modo particolare l'oggetto della sua massima attenzione è la situazione del Papa. Un Papa che se ne stava lontano da Roma, e che per lei questo era qualcosa di assolutamente intollerabile. Il Papa doveva assolutamente tornare a Roma, e quindi comincia a scrivere una serie di lettere, in cui con le buone, ma anche con le cattive, con vere e proprie minacce, richiama il Papa alla sua responsabilità, e gli dice che deve tornare a Roma. Dopo varie pressioni, alla fine, Papa Gregorio XI si convince, e decide di tornare a Roma. Le cose però non andranno come Santa Caterina aveva sperato. Infatti a Roma, dopo poco, Gregorio morirà, e inizieranno dei grossi problemi. Viene eletto un nuovo Papa, Papa Urbano VI, ricordatevi che i nomi dei Papi sono sempre molto importanti. Un Papa che si chiama Urbano, il nome deriva da Urbs, cioè da città, e nell'antichità la città, l'Urbs per Antonomasi era Roma, è chiaro che voleva mantenere un suo contatto con Roma. Infatti Urbano VI decide che lui sta a Roma, e non si sposta da lì. I cardinali francesi però accusano di essere stati fregati, dicono di essere stati minacciati dal popolo, dicono che questa elezione non è valida, e così organizzano un nuovo conclave ed eleggono un nuovo Papa, che si chiama Clemente VII. Clemente, come il Papa che aveva spostato il papato ad Avignone. E in effetti Clemente VII dice che il papato deve tornare ad Avignone. Il risultato è uno scisma, una divisione nella Chiesa, una divisione enorme che rimarrà ancora per alcuni decenni, con Urbano VI che diceva di essere l'unico Papa e accusava Clemente VII di essere un antipapa, di essere un impostore, e Clemente VII che diceva la stessa cosa di Urbano. e quindi una situazione molto molto complicata.